La Giulia GT AM è una versione sportiva dell'Alfa Romeo Giulia GT, un'autovettura coupe prodotta dalla casa automobilistica italiana Alfa Romeo tra il 1963 e il 1977. La sigla GTA sta per Gran Turismo Alleggerita e la lettera AM sta per Modificata. La GTA AM è stata introdotta nel 1969 come una versione ulteriormente migliorata della già performante Giulia GT. Rispetto alla GT, la GTA AM era più leggera e potente grazie a una serie di modifiche apportate alla carrozzeria e al motore. La carrozzeria della GTA AM era composta principalmente da materiali leggeri, come alluminio e plastica, al fine di ridurre il peso complessivo dell'auto. La vettura era dotata di parafanghi allargati e di un alettone posteriore per migliorare la stabilità ad alte velocità. Il motore della GTA AM era un quattro cilindri in linea da due litri, che erogava una potenza di 170 cavalli vapore. Il motore era dotato di un sistema di iniezione di combustibile meccanico, al posto dei carburatori, che permetteva di ottenere una maggiore efficienza e una migliore erogazione di potenza. La GTA AM era in grado di raggiungere una velocità massima di circa 220 km orari e di accelerare da 0 a 100 km orari in soli 7 secondi. La vettura era dotata di un cambio manuale a 5 velocità e di un differenziale a slittamento limitato per una maggiore trazione. La Giulia GTA AM ha ottenuto numerosi successi sportivi, soprattutto nelle gare di turismo. La vettura è diventata un'icona del mondo dell'automobilismo italiano e continua a essere molto apprezzata dai collezionisti di auto d'epoca. Il motore della Giulia GTA AM degli anni 60 era un motore a 4 cilindri in linea da 1,6 litri con un'architettura a valvole in testa e un albero a camme in testa. Questo motore era stato progettato specificamente per la Giulia GTA AM per garantire una maggiore potenza e una maggiore velocità rispetto al motore standard. Il motore aveva un rapporto di compressione di 10 e un minuto e produceva una potenza massima di circa 170 CV vapore a 7000 giri minuto. Era dotato di due carburatori a doppio corpo Weber 45 DCOE e di un sistema di lubrificazione ad olio a circolazione forzata con un radiatore dell'olio. Il motore della Giulia GTA AM era anche dotato di una trasmissione manuale a 5 velocità, che garantiva una guida sportiva e dinamica. La trazione era posteriore e il cambio era collocato sul ponte posteriore. Il motore era in grado di accelerare la Giulia GTA AM da 0 a 100 km orari in meno di 7 secondi e di raggiungere una velocità massima di oltre 200 km orari. Inoltre, il motore della Giulia GTA AM era dotato di un sistema di raffreddamento ad acqua che garantiva una maggiore efficienza e prestazioni costanti, anche in condizioni di guida ad alta velocità. In sintesi, il motore della Giulia GTA AM degli anni 60 era un motore ad alte prestazioni che garantiva un'esperienza di guida dinamica e sportiva, rendendo la Giulia GTA AM una delle auto più iconiche del suo tempo. Grazie. Grazie.